Un salto nel tempo per ritrovare un po' lo spirito delle origini e per far dialogare generazioni di studenti molto diverse tra loro. Con questo spirito l'Istituto Barbarigo di Padova ha dato vita alla sua prima grande festa di famiglia, un'occasione per rivedere compagni e professori che si pensavano ormai archiviati solo come memoria. A noi che siamo ora il Barbarigo interessa molto cogliere quanto queste persone possono portarci di simpatia, di amicizia, certo un po' anche di giusta nostalgia ma anche di consigli, di suggerimenti, di amicizia, di competenza. Noi speriamo che anche da questi incontri possa crescere qualche proposta per i ragazzi di adesso. Spazi dedicati alle associazioni, mostre, fotografie, eventi che per una giornata hanno riallacciato vecchie amicizie, ricordi ed emozioni. La prima impressione che ho avuto è stata meravigliosa perché ho incontrato persone che avevano iniziato a frequentare nel 1941. Tante generazioni che si incontrano insieme oggi in questo chiostro, è davvero un'emozione incredibile. Una festa attraverso quasi un secolo di storia ma anche una festa che conferma il dialogo continuo tra il Barbarigo e la città di Padova che ha visto in questa scuola crescere migliaia di storie e di percorsi di vita. Il collegio Barbarigo si apre alla città e recupera quella che è la memoria della sua storia. La ripropone a tutti i cittadini e promuove così un modo di fare cultura, un modo di fare istruzione e scuola con tante radici nel passato ma con grandi prospettive nel futuro. Grazie.